Adesso l'importante è però sempre lavorare come sto lavorando e poi i risultati verranno. L'impressione, le sensazioni al ritorno al campo? Ah dai, sono entrato che la partita era bella combattuta, quindi... Niente, loro sono, devo dire la verità, che sono una buona squadra, però io ti ho detto devo lavorare ancora di più in settimana perché devo prendere la condizione, poi è giocando che la condizione arriva. Trento, che impressione ti ha fatta invece? Trento? Ma diciamo che il Trento secondo me è una buonissima squadra, abbiamo una buona squadra che possiamo lottare con le prime davanti, quindi però l'importante è che non ci montiamo la testa, che lavoriamo come abbiamo fatto fino adesso e pensare partita dopo partita, oggi abbiamo inceppato una partita però ci sta durante il campionato, ne succederà ancora, però l'importante è adesso, come ti ho detto, lavorare bene come stiamo facendo e andare a manto a... niente, giocarsi al nostro partito... L'ultima cosa, visto che tu hai toccato due volte il tasto di non montarci la testa, credo sia un invito, però pensi che ci sia stato forse un atteggiamento non giusto per questa partita? Forse si è un po' sottovalutato l'avversario o no? Ma no, no, perché come ti ho detto, secondo me la partita era giusto che finiva in pareggio, poi l'albitro ha visto questo episodio che da dentro non sembrava rigore, poi anche da fuori mi hanno detto che non era rigore, però come ti ho detto, nel calcio ne succede, magari la prossima volta ce lo danno a noi, quindi è importante lavorare sempre così. Ok, va bene, grazie.